Diciassettesima edizione del premio Parco Maiella, un'edizione rinnovata, ricca sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto sotto l'aspetto letterario. Il premio Parco Maiella ormai è una tradizione dell'estate, è il mese di luglio, e diciamo nel fiorire dei premi letterari in questo nostro paese però ha una caratteristica. Il premio di letteratura ambientale e ambientalistica è premia sia narrativa che saggistica su questo tema o in generale sulla conservazione e la promozione dei valori della civiltà agricolo-pastorale che sono stati appunto la forza della nostra tradizione. L'edizione di quest'anno conferma la bontà di questa scelta, molte case editrici ci hanno inviato i loro libri, la giuria ha dovuto fare un intenso lavoro di lettura e di vaglio e ci sembra che le proposte che presenteremo sabato sera nella serata di ufficializzazione dei vincitori siano particolarmente interessati. Come sempre Abbateggio si presenterà nella sua cornice di bellissimo borgo per offrire a tutti una bella serata all'insegna della cultura e della natura. Antonio Di Marco, allora, diciassettesima edizione del premio Parco Maiella, tra le novità di quest'anno questa collaborazione con Copagri e con Coldiretti. Sì, abbiamo scelto in un momento difficile come questo dove l'economia italiana stenta a decollare di nuovo, invece torna all'attualità dell'agricoltura di qualità delle aree interne, prevedere quindi programmare un convegno con l'Università di Teramo ma soprattutto con le associazioni di categoria affinché ci sia la possibilità di approfondire queste tematiche e parlare addirittura di agricoltura familiare, cioè come fare sì che l'economia anche delle famiglie possa essere in qualche modo sostenuta, aiutata tornando a fare la coltivazione che un tempo era naturale e che oggi è diventato un fatto straordinario.